Quando a mattina chi suona la campana, come parco mi fettua nostra gente, che se ne va tranquilla o travagio, e pur tanto sua se guagna un pa', sei solo un fiatri che sei la nostra gente, che senza ingannia dice quello che canto qui, sei solo un fiatri che sei la nostra gente, in bell'unco tu devine tanta sincerità. Allora Luciana, partimo turno? Eh si eh, dai dove andiamo oggi? Siamo là? No, anche io cominciamo la nostra trasmission qui da Gatturna, che l'è in posto qui dalla nostra valata da Fontangabunga. Bene, cosa si mangia? Oh subito, sta qui subito può mangiare. Noi siamo venuti su perché c'è delle cose belle da vedere. Sì d'accordo, ma cosa si mangia non so. Non si sa, non si sa. Diamo che Gatturna è la valle del commercio, la zona... La zona fontana buona sì. E poi mi hanno detto che Gatturna da sempre ha una tradizione commerciale, anche perché è un portante centro viario di smistamento delle mulattiere, cioè sono secoli che sanno trattare bene gli affari. Per il commercio da gente qui bisogna lasciarla perdere perché lo dimostra il fatto che è la valata più diciamo più ricca, la più ricca dell'entroterra qui del Levante. E oggi ci hanno invitato qua, vediamo un po' cosa succede. Speriamo che le nostre trasmissioni vadano bene perché almeno sono piaciute. La gente scrive, ci telefona, mi viene anche a trovare. E quando vai lo sai anche te. Speriamo che possa ancora una volta far compagnia alla nostra gente. E mi hanno detto tutte le volte da qualsiasi parte eh ma non si lamenti se è ingrassata, è sempre con Dante. E il barba dove ce l'ha? Tutti vogliono sapere di te. No, 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 ti ti dici, invece mi ingrassi per davvero. Vabbè, ora andiamo uscito e facciamo vedere qualcosa di bello. Ci troviamo all'interno della chiesa di Gattorna e accanto a me c'è Don Luciano, il parroco e come guida ci hanno segnalato il maestro Vittorio perché anche se è in pensione è considerato la guida migliore per quanto riguarda Gattorna, la sua storia. Ha saputo trasmetterla nei suoi allievi e oggi dovrà spiegare, riuscire a convincere, a insegnare anche a me tutto quello che c'è da sapere su Gattorna. All'interno di questa chiesa che ha una storia antichissima. L'ospedale si faceva risalire al 200. Questa chiesa invece? Questa chiesa come costruzione è del 1700, diciamo, iniziati con la costruzione del 1700, 1712. Poi ci sono stati fatti dei rifacimenti, ci sono stati fatti degli ampliamenti fino a fare quella che è stata un po' il capolavoro, almeno ritengo io, della cupola. Lei l'ha sottolineata come un capolavoro. Io ho trovato da qualche parte, scritto da qualcuno che naturalmente ne sa più di me, che è stata un'aggiunta a quello che era il rifacimento del 1700, sullo stile barocco, un'aggiunta un po' troppo pesante, eccessiva, perché rende sproporzionato il campanile. Chiediamo a Don Luciano, a lei cosa dicono di quest'ultimo rifacimento? Magari a lei si rivolgono? Beh, per quanto riguarda la cupola, certamente è un arricchimento, è arrivato qui delle persone che hanno guardato stupito, dice, sembra una basilica, una cattedrale. Ecco, poi è vero che col campanile non si inserisce tanto bene, però guardandola da tribogna, la chiesa, anche così con la cupola, appare proprio una bellezza, ecco. I parrocchiani sono soddisfatti? Molto soddisfatti, sì. Ma chi l'ha voluta fare questa aggiunta, questa cupola che nella facciata risulta un po' mal sopportata, un po' sproporzionata? Ma guardi, la chiesa era piccolina, non era sufficiente per i pur non moltissimi parrocchiani, perché Gattorno non è un paese grande, ma allora avrà avuto circa 500 abitanti e comunque era troppo piccola. c'è stato uno che non era neanche architetto e neanche ingegnere, che ha pensato di fare questa aggiunta. E' stato per conto mio un colpo di genio, perché poter riuscire a mettere una cupola su una chiesa piccola naturalmente è stata leggermente allargata e leggermente allungata. E' logico che per uno che parla di arte c'è la sproporzione, perché le lesene sono troppo basse in confronto. E' logico che è dovuto essere un po' di sproporzione. Probabilmente quei mezzi di oggi si potevano anche fare altri lavori, alzare le lesene, alzare i muri e riuscire a fare qualcosa di più sincrono con l'arte. Però ci accontentiamo così perché è una bella chiesa. E' importante che accontenti il gusto dei fedeli e dei parrocchiali di chi la frequenta. Comunque dal punto di vista artistico invece discussioni non ce ne sono se parliamo della tavola di scuola genovese, del trittico che raffigura proprio il patrono, l'ex patrono San Giacomo del Lagatore. E' patrono e San Giacomo. Noi abbiamo la compatrona che è la Madonna della Guardia. E accanto a lui i due santi, quelli che rappresentano il mondo contadino, cioè Sant'Antonio Abate e San Bernardo per il culto della montagna, per i fabbisogni della montagna. Ecco, guardiamo, ci dica qualcosa di più su questo stupendo trittico sul legno. Ma guardi, cosa si può dire? Che è del 1575, è sul tavolo di legno. Ben conservato. Anche se è stato restaurato ultimamente, è stato rimesso perfettamente a posto. E c'è uno quasi simile a Moconesi, a tre chilometri da Gattorna, che è sempre un trittico, sempre attribuito al semino, anche se adesso si cominciano a fare, poi si sa come succede sempre, cose, dubbi, questo e quell'altro. Comunque è stato attribuito al semino. E lì c'è un trittico uguale sempre dello stesso autore, sempre un trittico così, però al centro, anziché San Giacomo, c'è Santa Margherita, che è la patrona di Moconesi. A proposito del semino, lei mi diceva che lo stupendo crocifisso che vediamo qua ai piedi dell'altare riguarda sempre la famiglia. Sì, un pronipote del semino ha fatto questo Cristo morente, non è Cristo morto, questo è un Cristo morente. Se noi guardiamo l'espressione del volto di quell'essere che dona la sua vita per il mondo, è stato concepito in un modo meraviglioso, fa vedere i brividi. Questo è stato fatto da G.B. Semino, come G.B. Semino ha fatto gli affreschi lassù dei discepoli di Ebaos, perché questo è un pittore, scultore eccetera, insomma uno che ne sa di arte, sa fare le cose bene. Bene, abbiamo parlato di questi santi che rimangono comunque a tutela e a protezione della popolazione, ma adesso diciamo che il culto principale, la festa principale dell'anno, è dedicata alla Madonna della Guardia, proprio perché a causa di una pestilenza, no, di un'epidemia di colera nel secolo scorso, come è andata? Sicura, 1854 e difatti nel 2004 noi celebreremo il centocinquantesimo di questo avvenimento. Si racconta che in quell'anno, come è successo spesso nel corso del 1800, si è diffusa in questa zona una epidemia di morbo colera e proprio a incominciare dall'inizio dell'anno a gennaio sono incominciate a morire delle persone, anche giovani e ragazzi, dalla frazione terzonasca, a Sorina, alle mogli. Ma soprattutto Gattorna. Si, che sono tutte le frazioni di Gattorna, si raccontano, un giorno uno, un giorno l'altro, e proprio nel corso dell'anno sono avvenute proprio parecchie morti. E la gente era scoraggiata, disperata da questa inaristabile epidemia. Non sapeva che santo votarsi e ha deciso per la Madonna. E nel 29 di agosto del 1854 alcuni sono andati in pellegrinaggio al Monte Figogna, alla Madonna della Guardia. E da Genova e dal Monte Figogna hanno portato il quadro che è in fondo all'ingresso della chiesa. E anche sulla cupola sono rappresentati questi due momenti. C'è il momento in alto lassù, il momento dei funerali della gente che moriva, e dall'altra parte il pellegrinaggio, la processione che porta allo stendardo. A me hanno raccontato, non so se è vero, la signora Giuseppina, che però ha sentito dire da suo nonno, che durante la processione ci fu come la risposta della Madonna, cioè un'acquazione particolare, che venne interpretato come una risposta di sì, l'aiuto, abbiamo capito, e la Madonna di lì a nove giorni ha impedito che chiunque morisse più di colera. Da allora è diventata lei la patrona. Sì, è portato il quadro qui, è stata fatta una novena per nove giorni. La gente si era donata qui a pregare. Durante la novena ancora qualcuno è morto, però terminati nove giorni è finito tutto, e hanno riconosciuto la grazia data dalla Madonna della cessazione del morbo colera, e da lì è diventata la festa principale in onore alla Madonna della Guardia, proprio in ringraziamento di questo dono, di questa grazia fatta. E di fatti ogni anno, il 29 di agosto, facciamo una grande festa con l'ore della Madonna. E si porta in processione una statua bellissima del Settecento adesso? Sì, si porta in processione una statua che abbiamo appunto nel nostro magazzino, una bella statua, come è bella anche la molto bella statua che abbiamo sopra l'altare, che rappresenta sempre l'apparizione della Madonna della Guardia. Il quadro lo porteremo soltanto nelle circostanze straordinarie, nel centocinquantesimo, come portato nel centenario. Allora, siamo qui, siamo qui da Silvana, come ti dici a questo posto qui? Non ti dici. E stasera poi siamo qui, quando siamo tutti riuniti, e facciamo vedere la tua, che è difficile trovare le altre parti. E chi è a Silvana, ne fa voi preparare una torta dei porri, che ne spieghi anche poi la ricetta. Allora Silvana, spiega bene, con calma. Poi si prende i porri, i setaggi belli fin fin, e si fanno passare in tutte le gambe con un po' d'olio. Poi ti cazzo un po' di lette, quando sono belli cotti ti fai venire freddi. Ti cazzo un po' di l'oevo, 5 o 6 oe, mentre questo cazzo, un po' di formaggio parmigiano assa, poi ti fai una sfoggia piccina, no? Ti la metti in tutta e poi ti caggi questo addosso con sci. Un po' come fa, sì, altre torte, come si dice, la torta pasqualina, tutte quelle lì. L'unica cosa è che questa chiede il porro ha un bel gustino, magari hanno un rinvegno come la sciola, un porro è un po' più fin, appunto come verdura. Ecco, poi facciamo l'altra sfoggia. L'altra sfoggia che va addosso come... Va addosso, sì. Vabbè, allora li hanno preparato la sfoggia e poi vediamo quando la finisce. Benissimo, benissimo. Allora, la sfoggia è pronta. Eccola. Deve essere un po', deve essere un po' sottì, eh? Mettiamo un sottio. Speriamo che non si rompa. E va bene l'importante? Poi agiamo un po', agiamo un po', agiamo un po' con sci che fanno un po' d'orlo. Insomma, poi agiamo un po' altro, eh? E l'impasto cos'è? Egua? L'impasto, egua, faina, un po' d'olio, e un po' d'assà, eh? Eccoli. Ora che mettiamo in gusto in d'olio, scusa. Ti vedi che fanno un tortino così, è una bellinata. E noi altri... E donne fanno tanti scusi per fare... Insomma, magari da stamattina che c'è giù i porri, insomma, vabbè, bellinata per mandare due di, però, poi merita, eh? E ora vanno in fornale. Poi vi fanno i muoviti, sei quando mangiamo. Vabbè, noi altri... Andiamo su... Ecco qui, vi fanno i muoviti, troffi e fatti, e gassi in uova, che poi quando venivano a fare presente, e hanno fanno vedere come si fa. E lì c'è diversa, torte, e torte... Ecco, qui ne è una che è curiosa, eh? Che poi va... E mi hanno detto... E mi hanno detto che si chiama facetta nera. E' una torta che fa un tempo di guerra, è il tempo... Quando c'è il clube Unanima. E' una torta d'ursa, che poi... Chi è che ne spiega chi come l'è? Non c'è la navia, non c'è. Vabbè, poi va spieghiamo dopo. Chi c'è il castagnaccio? O pannella, come vi ho chiamato. Chi è un'altra torta che... Poi va a fare spiegare quando viene... E' una torta di Merga. Va bene, noi altri... E vabbè, tanto poi quando facciamo le trofe, ce le facciamo spiegare bene. E' curiosa che c'è... C'è la facetta nera. Da noi altri fanno il pano Martino, che dice il pano mato, invece c'è che... Proprio non è una fugaça d'ursa, è fatto così. O aspettiamo, signora, che prendiamo le pronti per farne vedere come si fa le trofe, in minutina. Ma arriviamo subito. Prima fa tu vedere fare, è un tortino. Come si fa? O qui c'è Sandra, è una fuga, come si fa? E' trofe e mate. Prima di tutto, vabbiamo a vedere come si chiama i studenti per fare le impasse. Farina di Anca e farina di castagna. Mese a mese? Eh no. C'è quella gianca e meno quella di castagna. Tre in quarti? Eh sì, in quarti. Poi faccio bugia legua e l'impasto con legua bugia. è la prima volta che vado impastare a fare una con legua bugia, perché da volte ti dico che... Si aveva un nervio. Eh, ma sì, perché poi trofe si non viene troppo due quando si chiama. Almeno fa la con legua bugia si aveva un po' un nervio da farina. Vabbè, quando è pronto l'impasto... Quando è pronto l'impasto... Quando è pronto l'impasto... Vi facciamo vedere come si fa proprio manualmente a fare le troffiette. Dopo aver fatto l'impasto, Sandra, a me fa vedere... Come si fa? Perché per far fare qui mi fa una... Il tocchetto. Il tocchetto, come per fare il gnocchino. Però, ora ti avevi, eh? Ah, io vado avanti e poi... Ora, perché mi inquadrano e dove ci sono tutti. Comunque, per farmi l'impasto fino a stasera che è andata da Gia, perché... Se ne mangiano un chilo, si? Eh? Se ne mangiano un chilo. Dipende come sono con un dia. Io vengo al pesto, eh? Sì. Ma il pesto poi chi lo fa? A Paola lo fa. Sì. Paola, lasciatevi dire qualche pesto non è fatta stasera. Comunque, poi la pigiamo, eh? Va bene, non è... Ma mi ha un po'... Eh, mi ha un po' è. È troppo bello. È che dà? È che dà o giù avanti e o giù andere. È dietro. Ti mi dìvi prima che te li ha mandati anche in America? Allora, pigiò che è prima che favo. Poi erano andata alla sua signora una grandetta allora mi ha detto ma ti fai due trofi e ho detto va bene. Invece la seconda volta la portella con la catena mi ha detto ma queste qui non sono le trofie della Sandra. Quello che sta accadendo sono un altro luogo e il resto ci... Anche le fosce ci sono precise però, stai chiaramente ti dici sono fatte come una volta. E meno le precise. E vabbè, ma poi quando le abbiamo in buca non ce ne accorciamo mica. Va bene, poi andiamo a linea a Luciana che andiamo a uscire a via a fabbrica di giocattoli e al museo di giocattoli. Va bene, Luciana? Ecco Dante siamo all'interno di una fabbrica di giocattoli del 2000 il proprietario è il signor Massimiliano Basso ecco ma qua i giocattoli dove sono? I giocattoli li stiamo stampando con queste macchine in automatico e diciamo che poi si assemblano su nel reparto di sopra nel primo piano dello stabile e qua si fa tutta roba in plastica Ma che roba fate? Computer? No, 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 no girandole siamo specializzati sulle girandole. Siete ancora romantici come giocattoli? Sì, sì, proprio romantici siamo. Ma com'è nata questa fabbrica? Questa fabbrica è nata nelle nel mille diciamo ha iniziato mio nonno ha iniziato sì ha iniziato mio nonno e poi si è tramandata in generazione in generazioni ora io sono diciamo la terza generazione e cerchiamo di andare avanti Sei contento di fabbricare girandole? Contentissimo Ma dove vanno le tue girandole? Vanno più che altro vanno all'estero Il posto più lontano dove arrivano? Vanno in Norvegia il posto più lontano è la Norvegia E il vostro cliente migliore? Sono i tedeschi sempre all'estero parliamo dell'estero Francia Norvegia Inghilterra un po' tutta Europa Adesso siamo sotto Natale e state lavorando fino a che periodo continuate con la lavorazione delle girandole? Diciamo ora stiamo facendo del magazzino più che altro perché diciamo ora come lavoro è fermo perché la girandole in se stessa è un articolo estivo estivo in inverno i bambini non è che vanno fuori con le girandole e ora facciamo del magazzino assembliamo i giocattoli e poi quando è l'ora poi iniziamo a gennaio e a febbraio facciamo le fiere quella di Milano e Norimberga in Germania finito le fiere allora poi iniziamo a distribuire i giocattoli la vera vendita del giocattolo della girandola in se stessa fra quella girandola che faceva tuo nonno e questa che stai producendo tu che stai entrando tra una settimana nel 2000 ecco che differenza c'è? è cambiata la girandola? vabbè una volta le facevano a mano tranciavano tutto a mano ora ci sono dei macchinari tutti automatici ci sono la plastica diversa perché ora è PVC ma come la faceva tuo nonno? a quei tempi le fustellavano a mano proprio i prodotti? i prodotti il materiale era in celluloide la plastica si chiamava celluloide ora invece PVC sono due cose diverse che logicamente col tempo hanno migliorato il discorso per i bambini che non sono tossici tutta la qualità colori rispettate tutte le norme europee tutte le norme europee sì sì sono giocattoli per la sicurezza del bambino sono tutti quanto costa sul sul bancone la tua girandola in Italia hai idea di quanto possa costare sì al bambino italiano che la va a comprare il bambino che la va a comprare va a spendere sulle 1500 lire che bello costa ancora poco sì 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 bene grazie adesso andiamo su di sopra a scoprire qualcosa sì siamo saliti qui c'è il laboratorio questa macchina cosa sta facendo? praticamente sta fustellando le bobine in pvc e diciamo prima entrano diciamo in una maniera poi escono fustellate come noi vediamo qua che stanno cadendo nella scatola ecco quelle lì che sta riprendendo ora sono le bobine che poi vengono lavorate su questo macchinario qua ma a mano si fa ancora qualche cosa? no a mano non si fa più niente ormai ci sono queste macchine moderne che fanno basta cambiare gli stampi ogni stampo si cambia e ogni forma diversa esce diciamo nella fustellazione avete dei creativi che vi cambiano i modelli oppure in base a che cosa? si riesce a ottenere modelli che 40 anni fa non esistevano come questa girandola a 7 piocchetti piocchetti si noi diciamo guardiamo siamo noi creativi siamo noi perché siccome che siamo nati su questo lavoro qua abbiamo sappiamo dove dove dobbiamo arrivare per esempio questa è una girandola che l'abbiamo fatta noi e poi se ci magari quando vogliamo fare delle novità possiamo vedere o pensare diciamo di cambiare forma nel petolo però in se stesso poi la girandola è sempre quella la girandola è la classica che gira noi andiamo a vedere le ultime produzioni di là si ci accompagno Marina stai facendo una bellissima girandola rossa con lo smile ecco spiegaci un po' cosa stai facendo in pratica inserisci qualcosa si inserisco dei perni per poterla montare per poterla farla stare insieme è difficile? no poi pinzi girandola è pronta che belle sono tutte così ma queste qui sono molto più articolate sono difficili ci vuole più tempo? no sono uguali ce lo fai vedere uno di questi? ci vuole troppo ecco Marina devo stare zitta meglio oppure tu riesci anche se chiacchiero? no no ti faccio delle domande allora ecco l'abbinamento l'accostamento dei colori te lo puoi regolare ogni volta che vuoi? sì di solito cosa ti chiedono di più? il rosso il rosso il rosso verde e il giallo i colori fluorescenti è molto tempo che li avete inseriti? che ve li chiedono? sì abbastanza siete stati i primi però? sì brava e il bastoncino finale poi dai quello per fare le corse in bicicletta sul triciclo? ah bravo adesso fai vedere come si deve usare la girandola in maniera giusta dai così Ale bellissimo ciao Dante adesso provaci tu prima di avviarci al museo del giocattolo dove il maestro Vittorio ci sta già aspettando diamo un'ultima occhiata a tutta la produzione della ditta di Massimiliano che ci fa vedere tutta la sua produzione e beh bisogna proprio dire che le girandole e i giocattoli più semplici sono sempre i migliori sempre i migliori e sono sempre allegri per i bambini e quindi va molto bene per la tua ditta e per Gattorna e per Gattorna grazie grazie eccoci con la signor Vittorio Rosasco il maestro principale curatore e ideatore del museo del giocattolo qua a Gattorna ecco questo museo raccoglie delle cose molto preziose ecco ci dica quella che a lei sta più a cuore qual è il pezzo forte del museo? guardi parlare di un pezzo francamente mi trovo in imbarazzo perché il museo è nato perché Gattorna e questo è risaputo è la capitale del giocattolo del cosiddetto giocattolo povero cosa vuol dire il giocattolo povero? vuol dire il giocattolo fatto di palline palline di stoffa riempiti di segatura ombra di carta topolini di cartone eccetera tutte queste cose qui queste sono le cose che principalmente mi stanno a cuore e la macchina per fare le prime palline lei è riuscito a trovarla e la vediamo funzionava in quali anni funzionava questa apparecchiatura? in un primo tempo le palline di segatura venivano fatte con i pezzettini di stoffa cuciti assieme e poi con una specie di imbuto venivano riempite con un bastoncino qualche non si sa chi sia ma qualche bravo inventore ha fatto la cosiddetta macchina per riempire le palline è una specie c'è una maniglia una molla è un imbuto e si fa si riempiono le palline di segatura soltanto muovendo la mano si faceva più presto e si guadagnava di più altri giocattoli molto antichi che comunque vanno lontano nella storia sono questi appesi qua dietro dante giocava con la lippa e qua appesa c'è la lippa si si c'è la lippa e ci sono altri giochi che io ho voluto chiamare i giochi dei nostri nonni c'è la lippa c'è la trottola la fionda c'è lo zuffolo c'è lo yoyo i giochi le bocce di legno eccetera che erano queste cose qui poi giocavamo con le palline di che erano fatte di terracotta poi sono tutte le palline di vetro eccetera insomma tutti i nostri giochi praticamente erano quelli il cerchio che vedi anzi il cerchio a volte era un cerchio di ferro altre volte era di legno altre volte era addirittura una ruota di bicicletta ho notato che esiste abbiamo notato un reparto dedicato ai giocattoli di latta anche nell'altra parete cosa comprende? ci sono diversi bei giocattoli perché questi giocattoli oggi sono quasi introvabili abbiamo delle rivoltelle in latta abbiamo delle locomotive abbiamo carri armati e altri giocattoli che hanno un certo valore diciamo naturalmente il reparto trenini ha un grande spazio addirittura c'è un plastico ha delle particolarità perché ha scelto proprio questo plastico? ma questo plastico ci è stato regalato e quindi ne ringraziamo i fratelli Bacigalupo che se l'hanno regalato questo serve perché fa vedere un momentino i bambini sono ammirati quando sono davanti a un plastico del treno sono molto ammirati abbiamo anche un altro bel trenino in latta che è stato donato da Pifero e di altro tipo diciamo lei vedo che predilige o è un caso i giocattoli per i maschietti per le femmine e le bambole cosa c'è di prezioso? ma abbiamo qualche bambola veramente bella ne abbiamo una che non è adattabile però è tutta in legno snodabile fatta a mano che è veramente stupenda e poi abbiamo qualche altra bambola con la testa di ceramica gli occhi movibili gli occhi che si muovono e si chiudono e si aprono e si chiudono e altre altre cose diciamo per visitare il museo del giocattolo come si può fare? è sempre aperto o dobbiamo telefonare a qualcuno? generalmente è aperto al sabato e alla domenica dalle 15 cioè dal mattino dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 per avere invece per appuntamento in qualsiasi giorno in qualsiasi ora ci sono disponibili per la visita del museo la visita guidata magari per le scuole anche sì anche per le scuole e soprattutto per le scuole lei è sempre disponibile? sempre disponibilissimo grazie Vittorio mi spieghi in lo questa voce qui con che legno vieni a fare? questo fio è un legno normalmente o è un legno di radica è un legno di brugo bursa ah ecco non è un altro brugo che diciamo mi ricordo quando ho visto che sono un vege-vege ma quando mi affiggiamo in saluto dove io ho proprio il nodo profumo ho questa voce qui i grandi giugni di oggi non so se ci manca fuori ci manca molto perché sono pesanti sì perché ho anche il calibre che ho fatto apposta eccetera ho anche tante storie mi ha detto che mi ha avuto quando ho visto una voce di questa sono dei signori però è in tua finestra quando sei qua io parlo italiano quando sei con me ho stato dato anche a parlare il dialetto vuoi dire che sei dei nostri via ah mi sono 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 questa dante prima di andarcene dal museo del giocattolo avrei da chiedere ancora qualcosa al direttore responsabile del Museo del Giocattolo. Abbiamo visto un antico catalogo intitolato a Luigi Basso, vorrei saperne di più. Chi era? Guardi, io quando prendo in mano questo catalogo sinceramente mi sento commosso perché mi ricorda Luigi Basso. Luigi Basso è stato il pioniere dei giocattoli a Gattorna. Lui che non aveva istruzione, che non aveva mezzi, ha saputo creare con la sua intelligenza facendola all'inizio, faceva quello che chiamavano da noi il ballonaro, cioè un venditore ambulante. Ha andato in Germania, ha imparato la lingua, ha imparato a scrivere, è tornato in Italia e ha fatto una piccola fabbrica di giocattoli piccoli, poveri. Lui ha cominciato con le palline di segatura? Lui ha cominciato con le palline di segatura che faceva insieme a sua moglie, che facevano tutti gli altri giocattolini di cartone. In questo catalogo sono raccolte alcune delle cose, dei prodotti più importanti. Le girandole? Le girandole, che queste una volta erano tutte quante in celluloide, poi abbiamo palloni, abbiamo le palline di legno, queste erano di legno fasciate rivestite di stagnola, i bambolotti fatti di riccio di legno, le scimmiette di ciniglia, tutte cosine, topolini, tarantole, trombette, cosine, così. Di lì è cominciato e poi ha aperto una fabbricchetta e è andata avanti. Dobbiamo dire che veramente Luigi Basso è stato un grande di Gattorna. Abbiamo anche ricordato giustamente lui. Allora, noi stasera finimmo qui in questo bello salone, che è tanta gente che mi penso di trasmissioni di tutte quelle che abbiamo fatto insieme, forse non io. Abbiamo un giorno un po' per Gattorna, insieme a chi ha Vittorio, o vege un messo di Gattorna, o c'è anche una foto che vede belle cose, no? Noi stasera chiamo di ringraziare a quelli che non hanno preparato tutta questa roba, perché non hanno preparato tanta roba che mi... Vabbè, non abbiamo parole. Da Giorgio a questa signora qui che... Vedi un po' che mi scappano i nomi, non... Silvana, che è il tuo giorno che ha trattato e non so come... E non hanno fatto fuga, non so... Perché la signora, la zucca deve essere... E tua mamma, Silvana? Che ha preparato... A Surgia. Che la preparò delle torte, che hanno una dita ricetta e poi lo diamo quando è finito. Tanto che facciamo vedere quello che l'hanno preparato, che fosse una bella ciucata di mano a questa gente, perché... Stasera poi vi facciamo vedere, vi facciamo sentire cose che qui in tutti i nostri dintorni non nemmeno sentire. Mi usano le esperienze per l'opposto. E vi facciamo vedere anche, viate che siete sentite in questa nostra trasmissione? Abbiamo di cantare ragazzi che la finiscono il mondo, che poi vi presento io con calma, perché... Ecco, io come conosce, e poi ne parliamo un po' dove deve far venire lì. Chi che nasce nua, che hanno preparato un'induzione particolare. No, no, no. Hanno preparato un'induzione particolare. Come si chiama? Facetta nera. Si chiama facetta nera, no? Noi altri da nostra parte chiamiamo Pau Martino o Pau Matto. Chi invece l'ha fatto induzione, come si chiama facetta nera, perché i tempi famosi, o le hanno induzione, o le hanno induzione, che le ha fatto messo di farina di castagno, messo di farina di grano. E poi dentro, ma ti dobbiamo mettere anche? Ricotta, sicchio e un bistino di lievito. Ecco, mi penso che se siete induzi, dove ne tengo che colare? Sto in una cosa dussa, almeno magari sta. Va bene. Che è il carino di roba che poi quando passiamo in area vediamo? Figgio, mi... Si fa un buon appetito. Grazie. I nostri amici che l'hanno detto che non mi hanno mangiato il corso, perché è la roba che non è. Mi ha pittato, pittato, pittato. Prima che finiamo, chi ragazzi... E' quello che deve cantare a poco, perché poi si è stressa o diaframma. Non c'è problema in me. Veni un po' che ti fa muovere? In un attimo delle faiasche. Veni un po' a vedere cosa che è un artichista che ha fagiato, poi. Tenta un cavallo. Mi ha un po' che ci siamo preparati. Due paio di polenta e il tocco di fusi che l'ha fatta a muoio di Giorgio. Giorgio è un amico che è... Qui è in una trattoria che è a Gatona, che quando veniamo a pescare, purtroppo stiamo da lungo PIP. Purtroppo. Per me va bene, ma magari purtroppo per lei. Vabbè, figlio, all'attacco che l'è lua, eh. Dunque puoi venire. Noi ho tenuto a fare un buon appetito, eh. Allora siamo arrivati, dunque. Chi che è trofie, che ne l'ha fatta anche io? Come si chiama con la signora? Alessandra. Alessandra ne l'ha fatta. Queste che sono le trofie matte, quelle fatte con la faina di castagna e la faina di gianca. E vengono condire con il pesto, in abbondante il pesto, perché noi altri siamo con il pesto abbondante. Ti vedi qua, Paolo, che non l'ha mai fatto altro. Va bene. Poi non fa bene come si fa con il pesto, eh. La gente è pronta, tu muoio, adesso si fa moda la ricetta. Voi avete, in effetti, bene in tuo vostro locale? Sì, sì, è fermo. Su ordinazione, non tutti i giorni, ma ogni tanto è fermo. Perché noi altri mangio piccati, ma sono buoni tanto come le trofie. Forse anche di tu. Sì, sì, piccati da noi altri e vanno anche le trofie. Mia buona, ma mia buona che è bello, eh. Mia mia, eh. Se sono buoni come sono belle, mangiamo un bello piatto. Va bene. Ora poi vi facciamo vedere come l'ha fatto il pesto, eh. Ecco, chi? Go Murtà. Il pesto che l'ha fatto chi ha, Luciana? Mia un po', eh. Luciana, questo che metti per favore il pesto? Allora, bagiacò, pignè, formaggio, sa e agio. Ma, per te, per se ne so, ti metti? No, no, no. Ci mettiamo la crema. La crema di letto? La crema di là. Va bene, ora ti vedi? La, l'abbiamo già vista con di. Mia poco malebbe lo cremoso, eh. Ora noi alziamo la settimana tua, mangiamo le trofie e poi facciamo l'ultimo giro con i nostri amici. Allora, sono qui con il maestro Vittorio, no? Quello che ci ha accompagnato oggi per le nostre trasmissioni. E ci vuole comunicare tutte le date importanti che ci sono qua a Gattorna. Ce le può spiegare bene? Allora, le date principali, delle feste principali che il centro commerciale di Gattorna sono. Allora, 9 aprile, girandole, bici e pasta asciutta. Ci avviciniamo alla primavera e quindi è bello stare assieme fra amici. Girandole sono giocattoli, bici, un viaggetto in bici per poter stare insieme. E poi, cosa c'è di meglio? Di sedersi a tavola e mangiarsi un bel piatto di pasta asciutta. Il 18 giugno, marcia Gattorna nel Verde. Questa è la terza edizione. E di questo vi parlerà Vittorio Alinovin. 23 luglio, quinto terzo, Vespa Raduno per Vespisti e Appassionati. 25 luglio, festa patronale di San Giacomo. 6 agosto, secondo raduno Arley Davidson. Da giovedì, 31 agosto, a lunedì 4 settembre, grandi feste. È il periodo che a Gattorna brucia tutta. Perché fuochi, sparate, bassa Gattorna, alta Gattorna, gente a profusione perché arriva una marea di gente che è incredibile. Naturalmente, per questa festa, da non dimenticare gli stand gastronomici per tutti, eccetera. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre, seconda Sagra d'Uraille. Sabato 7 e domenica 8, seconda domenica di ottobre, sedicesima edizione della Mostra del Fungo e Sagra della Ballotta, che è organizzato dalla Bassa Gattorna. Su questo diciamo una sola parola. Perché è stata ideata questa festa e perché si continua a farla con tanto successo. È necessario capire che nella nostra zona è una zona di funghi, è una zona di castagni. I funghi sono importanti perché la gente non si avveleni. E allora verranno esposti tutti quanti i funghi, sia i funghi velenosi, sia i funghi mangerecci, e poter evitare gli avvelenamenti che tutti gli anni si fanno. Perché ci sono dei funghi che sono molto simili e che purtroppo la gente si avvelena. Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ogni primo sabato e domenica del mese, mercatino dei mestieri. Interessante, sì, perché ci sono tutte le cose sui mestieri. È in programma anche un mercato settimanale di merci varie che si terrà sulla piazza principale di Gattorna, la piazza Vittorio Basso di Gattorna. Vorrei dire ancora una cosettina solo. Premetto che non sono un titolare di commercio, non ho parenti commercianti, però vorrei dire a tutti, venite a Gattorna perché troverete signorilità e convenienza. Venite, venite a Gattorna. Allora diamo la parola qui a Linovi per spiegare lì il 18 di giugno la manifestazione che è... Buonasera, sono Vittorio Linovi e sono qui in rappresentanza della Federazione Italiana Escursionismo che, come dice il nome, si occupa di passeggiate più o meno lunghe e pesanti in montagna. Da tre anni a questa parte gli amici del Centro Commerciale Integrato hanno chiesto alla nostra federazione di organizzare una marcia di regolarità in montagna. Nelle due edizioni passate ha avuto un ottimo successo e oltretutto è stata anche inserita come prova del campionato regionale di marcia organizzato ogni anno dal comitato regionale della FIE. Posso venire anche io? Chiunque può farlo. Chiunque può farlo. Basta che abbia almeno sei anni di età per una questione di assicurazione. Allora posso venire anche io? Sì, signore. Comunque venite in Fontana Buona e nel comprensorio di Gattorna perché merita veramente. Io ci sono venuto per starci sei mesi in vacanza. Sono trent'anni che ci vivo. È un'attività di manca per essere là. Grazie. Allora è capito. Ho 18 desegno. Tutti a Gattuna a questa gara di regolarità. Oa, Ganku da sasà qualcosa poi da che un po' vi presento il gruppo del Canterin che l'ha finito il mondo. E vi facciamo spiegare anche le manifestazioni dove va, cosa si fa. Vi presento chi? L'amico Stefano la squadra di Canterin che mi diamo un numero perché io non so ancora. La nostra è la squadra del Centro Storico di Genova. È una squadra di Trallallero di canto tradizionale genovese. È una squadra che ha la fortuna in questi anni di girare l'Europa a portare a raccontare la nostra tradizione musicale un po' dappertutto. È un'esperienza molto bella che parte proprio dalla nostra città, dal Centro Storico appunto. E abbiamo così il piacere di girare, raccontare la nostra tradizione musicale. Grazie. 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 Vabbè, e se dono qui, ho una giocata di mamma, mi affagano, perché insomma, ha già il paziente. Lo so già che ci piglia oggi. C'è, a Maria. Tutti quelli che sono venuti a Maria, specialmente, che è la giù che... In ringraziamento particolare al nostro maestro, o Vittorio... Dalinovi. Figlio, grazie, è nata a ciucate manco, ci ha ciato ammolito tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.